Diciamo che le considerazioni che possiamo fare in questo momento riguardano un decreto che dà misure di intervento relativamente ai versamenti, alle scadenze, ai bonus e agli incentivi e sotto l'aspetto finanziario per le imprese. Il primo per quanto riguarda i versamenti, riguarda le scadenze fiscali e dobbiamo dire che tutte le scadenze fiscali che scadevano il 16 di marzo sono prorogate per chi ha un fatturato sotto i 2 milioni di euro nell'anno precedente, nell'anno 2019, sono prorogate al 31 maggio e sono le scadenze fiscali e contributive, sto parlando. Mentre chi è sopra i 2 milioni di euro dal 16 di marzo sono prorogate solo di 4 giorni al 20 di marzo. A chi scadranno invece, come dicevo, chi è sotto i 2 milioni di volume d'affari al 31 di maggio possono poi al 31 di maggio o pagarle in un'unica soluzione o rateizzarle. L'altro perimetro riguarda i bonus e gli incentivi. Sono praticamente cosa viene dato ai cittadini e voglio fare anche una precisazione che siamo in attesa del decreto legge. Io non credo che il decreto legge abbia misure di attuazione, quindi il decreto legge sarà quello che dice che verranno dati, poi ci vorranno dei decreti attuativi, dei decreti ministeriali per attuare questi incentivi che vengono dati. Quindi come si farà avere questo incentivo? Perché tutti chiederanno, ma io come faccio ad avere il bonus sulla babysitter? Bisogna aspettare le norme di attuazione, quindi speriamo che siano anche veloci. Ultima cosa che dico riguardano i provvedimenti finanziari. Le aziende fino adesso abbiamo visto che un po' di cassa se la possono fare con la sospensione dei termini. Al momento esiste solo la sospensiva data dal governo per quanto riguarda i mutui sulla prima casa per laboratori autonomi e imprenditori, se hanno il 33% in meno del fatturato in questo periodo rispetto all'anno precedente. Non dice nulla per i lavoratori dipendenti perché comunque loro sono assistiti dalla cassa integrazione in deroga, da tutte queste cose, quindi loro non dovrebbero avere difficoltà a pagare i mutui così, ha ragionato il governo. In effetti la bozza del decreto legge Salva Italia, che adesso viene chiamato decreto marzo, ha previsto la cassa integrazione per tutti i lavoratori dipendenti. E questa è una cosa molto importante perché normalmente la cassa integrazione è prevista per le aziende che hanno più di 5 dipendenti. Noi sappiamo che nel nostro territorio abbiamo tantissime aziende piccole, se pensiamo al piccolo bar, ristorante, il negozio, quindi aziende che hanno meno di 6 dipendenti sono tantissime. Questi non hanno una copertura di cassa integrazione normalmente. Con questo decreto viene creata una sorta di cassa integrazione speciale chiamata emergenza Covid-19 che va ad assicurare, a coprire anche tutti questi lavoratori. La copertura della cassa integrazione è prevista per un massimo di 9 settimane che potremo fare anche con effetto retrattivo dal 23 febbraio in poi. Avremo tutto il tempo per fare queste domande di cassa integrazione perché avremo tempo 4 mesi da adesso per poterle fare. Grazie a tutti! Grazie a tutti.